Le multiutility sono quelle aziende che investono sul territorio, in Italia, sull'acqua, sull'energia, sui rifiuti, sull'economia circolare, quindi assurgono un ruolo fondamentale nello sviluppo economico di un territorio, nella creazione di valore e di valori nel territorio. L'acqua è un valore prezioso, ci siamo accorti un mese fa che mancava l'acqua. È una crisi idrica che si ripete ogni estate e quindi le multiutility possono lavorare insieme agli enti locali, ai comuni, per valorizzare, per risparmiare, per salvaguardare questo bene comune che è l'acqua.